È dalle 7 e un quarto di questa mattina che ricevo telefonate senza un momento di tranquillità. È l'avvocato del caso Montepaschi, ma anche dei Bond Parmalat ed ora di tanti azionisti contro Veneto Banca. Un'azione collettiva che diversamente dalla Clux Action prevede l'adesione di ogni singolo ricorrente. Tutti sottoscrivono un mandato all'avvocato il quale procede per tutti, ancorché i risultati siano a favore dei singoli. Un'azione contro Veneto Banca che vede coinvolto il sindacato degli agenti di borsa che rappresentano oltre 160.000 azionisti italiani. Un fatto che da solo dà la proporzione del coinvolgimento nazionale e non solo di chi ha investito nella banca di Montebelluna. E non si creda che la maggioranza siano fondi di investimento, anzi chi telefona a volte piangendo si racconta così. Parlano della loro banca come della propria famiglia. Stiamo parlando di gente che è cresciuta pensando che la banca fosse una cooperativa dove tutti versano e tutti possono godere dei contenuti, dei risultati della banca. Oggi si sentono completamente traditi dal sistema. Un sistema che l'avvocato non esita a definire perverso. C'è chi ha chiesto i soldi alla banca e la banca gli ha chiesto di sottoscrivere delle azioni costituendo l'impegno. Nel tempo le azioni hanno perso di valore in parte e in parte sono senza circolante, quindi si dice sono illiquide. Così c'è chi ora ha debiti che non riesce a onorare perché non riesce a vendere le azioni che nel frattempo continuano a scendere di valore. E non si parla di pochi euro. Ci sono investitori da 5.000, da 25.000, da 500.000, gente che rischia di perdere il lavoro, di perdere la casa. Un'azione collettiva che conterebbe già su diverse migliaia di azioni sugli 88.000 investitori di Veneto Banca. Un piccolo esercito che non ottenendo risposte agli sportelli contano su quelle davanti ad un giudice. Tutti con l'unico obiettivo di conferirmi l'incarico per insieme cercare di ottenere il miglior risultato per il proprio investimento. Grazie. 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 Grazie.